Iniziamo oggi un nuovo argomento che è l'argomento delle funzioni, che non è complesso, quindi in realtà non aggiungiamo molta difficoltà in questa settimana rispetto a quello che già stiamo facendo, però ci permetterà più facilmente, più agevolmente di riuscire a costruire programmi di dimensioni un pochino più grandi e articolati in un modo anche un pochino più strutturato. Di che cosa stiamo parlando? Quindi noi abbiamo già usato nel programmare delle funzioni, tutte le volte che chiamiamo la print in realtà stiamo usando una funzione che è offerta dal linguaggio. Adesso oggi impareremo a conoscere un po' meglio questo meccanismo con cui funzionano queste funzioni, scusate il bisticcio di parole, e anche e soprattutto come costruire le nostre funzioni in modo da poter articolare il programma non come un'unica lunga sequenza di codici, di istruzioni, ma proprio anche spezzarla in varie sotto funzioni che poi si richiamano un'altra, funzioni progettate da noi, come dicevamo. La parte critica, l'unica parte un po' critica di questo è capire un po' meglio come funziona il passaggio di parametri, dagli argomenti di una funzione ai parametri interni della funzione stessa. Noi abbiamo finora visto, usato già delle funzioni come fossero, diciamo così, delle scatole nere, cioè come sequenze di istruzioni con un nome, quindi di fatto in Python una funzione non è altro che un blocco di codice, un corpo di istruzioni a cui diamo un nome. Noi abbiamo usato, per fare un esempio semplice, una funzione round che arrotonda un numero, l'abbiamo già vista, arrotonda il numero all'interno più vicino oppure con un determinato numero di cifre decimali che specifichiamo. L'abbiamo usata, l'abbiamo usata fin dalla prima settimana di lezione e non ci siamo posti in molti problemi. C'è una funzione che si chiama round e riceve un parametro oppure due parametri, questa è la sintassi che troviamo sulla documentazione con le parentesi quadre che non sono parentesi quadre da scrivere, ma indicano che quel parametro è opzionale e l'abbiamo usata senza porci tanti problemi. Abbiamo imparato a chiamare la funzione, in gergo si chiama invocazione di una funzione, a invocare una funzione o richiamarla, significa semplicemente usare la funzione dentro il nostro codice passando uno o due parametri, secondo i parametri che richiede, in questo caso è un numero reale, il secondo parametro tendenzialmente deve essere intero perché rappresenta quante sono le cifre decimali che mi interessano, e questa funzione restituiva un valore che poi questo valore veniva usato per essere assegnato ad esempio a un'altra variabile oppure in un'espressione di calcolo, in un confronto dove ci serviva essenzialmente. Quindi noi abbiamo imparato la cosa più semplice che è quella di invocare funzioni e per invocare funzioni ci serve semplicemente conoscere il nome della funzione, quali argomenti si aspetta, quali parametri si aspetta e quale valore questa funzione restituisce e cosa ce ne facciamo di questo valore. A noi questo valore di ritorno chiaramente lo chiamiamo valore di ritorno o risultato o valore restituito dalla funzione, sono tutte espressioni che useremo sempre intercambiabilmente, può essere utilizzato da noi all'interno di un'altra espressione, ad esempio di un'istituzione di assegnazione, oppure in realtà potrebbe anche essere ignorato, cioè se io chiamo una funzione e non uso il suo valore perché non mi interessa, non capita nulla, cioè la funzione print non abbiamo mai usato il valore che la funzione print restituisce, non sappiamo neppure se ne restituisca uno di questi valori, però non ci serve e quindi non usiamo, quindi è lecito in certo senso chiamare una funzione senza usare il valore di ritorno se questo valore in realtà non ci serve. E poi il programma, una volta che ho fatto questa operazione, quindi ho chiesto alla funzione round di fare il suo lavoro e ho usato il risultato che mi ha restituito, il programma va avanti, va avanti sull'istruzione successiva. Quindi in un certo senso noi abbiamo il nostro programma che lo immaginiamo in questa colonna qua di sinistra, in cui passo i parametri, memorizzo il risultato della funzione in una mia variabile, questa price dell'esempio, e poi vado avanti. In mezzo a che cosa succede? Beh, quando io chiamo una funzione, chiaramente il round è un caso semplice semplice, ma è per capirci come meccanismo, il codice passa da un'altra parte, in questo caso round è una funzione di libreria, quindi questa funzione qualcuno l'avrà descritta, non è che il computer sappia da solo che cosa significa la funzione round e come deve lavorare, qualcuno questa funzione round l'ha scritta, tipicamente, probabilmente l'avrà scritta in Python oppure no, non sappiamo, immaginiamo che sia pure scritta in Python, ma è stata scritta da qualcun altro, è stata inserita nella libreria standard, in questo caso, in questa funzione specifica. Quindi all'interno del nostro programma noi abbiamo delle istruzioni, ad esempio questa è un'istruzione che abbiamo scritto noi nel nostro programma, ma il programma non solo esegue le istruzioni che scrivo io, ma eseguirà anche le istruzioni che ha scritto l'autore sconosciuto della funzione round. Quindi quando io eseguo il mio programma riga per riga, alcune delle istruzioni che il programma esegue sono le mie, altre sono le istruzioni contenute all'interno delle funzioni che io chiamo. Quindi questo codice io lo sto eseguendo, il computer lo esegue, l'interprete Python lo vede, ma non l'ho scritto io. Quindi in questo modo, per questo la chiamavamo una funzione come una scatola nera, perché a me interessa solamente come si chiama, quali parametri ha e quale valore restituisce, poi come sia fatta internamente non è in più un problema mio, non è mai stato un problema mio, sarà un problema, è stato il problema di chi ha costruito questa funzione. Quindi in questo caso, isola un pochino, ci permette di non vedere, di non capire come viene fatto questo meccanismo di arrotondamento, ma ci accontentiamo del risultato finale. La chiamata alla funzione, diciamo così, richiede spesso di passare dei valori, questi valori, adesso impariamo un po' di terminologia perché tra un po' dobbiamo evitare di confonderci, li chiamiamo argomenti nell'invocazione di una funzione. Quindi io quando chiamo una funzione dirò che 6,82 e 2 sono gli argomenti che vengono forniti alla funzione nel momento in cui la chiamo. Questa funzione potrà essere chiamata tante volte nel mio programma, in tanti programmi diversi, ogni volta che viene chiamata avrà magari dei valori degli argomenti che sono diversi dai valori precedenti. Non è un problema. Semplicemente la funzione viene chiamata in quel momento con quel valore degli argomenti e lavorerà quindi prendendo quei valori come valori, diciamo così, correnti di riferimento. Esistono anche funzioni che invece non hanno bisogno di ricevere argomenti. Pensate ad esempio alla funzione print, potete scrivere print aperta tonda e chiusa tonda e lei stampa una capo. La funzione random che restituisce un valore casuale, random punto random, aperta e chiusa tonda, non ha bisogno di nessun argomento, non ha bisogno che noi forniamo alcun argomento. A Massimiliano rispondiamo tra un attimo perché un punto crociale è proprio quello della differenza tra argomenti e parametri. Uno sono visti da fuori, l'altro sono visti da dentro. Poi le funzioni restituiscono un valore di ritorno, valore di ritorno o valore restituito, sappiamo cos'è e sappiamo come usarlo. Cioè ogni volta che io ho una funzione, questa, noi dobbiamo sempre immaginare che quando chiama una funzione corrisponde a eseguire tante istruzioni che sono messe da qualche parte, che qualcuno avrà scritto da qualche parte. Ma poi dopo che ho eseguito tutte queste istruzioni, tutta questa funzione viene rimpiazzata da un numero, in questo caso sarà 6.82. Quindi ogni volta che chiama una funzione, dopo che la funzione ha terminato di eseguire le sue istruzioni, che magari sono moltissime, non lo sappiamo, la funzione restituisce un valore e questo valore sostituisce, rimpiazza la chiamata di funzione nel calcolo dell'espressione di cui fa parte. Quindi qui è come se scrivessimo price uguale a 6.83. Semplicemente questo 6.83 noi non lo sapevamo prima, ce l'ha dovuto calcolare la funzione stessa. Questo per dire che io una funzione la posso mettere, la posso inserire ovunque nel programma, ovunque ci starebbe un numero, ci posso mettere al suo posto una funzione, ovunque ci starebbe una stringa, ci posso mettere al suo posto una funzione che restituisca un numero o che restituisca una stringa, diciamo così, adatta in quel contesto. Il che vuol dire che negli argomenti di una funzione posso a loro volta scrivere delle espressioni complicate che coinvolgono anche altre chiamate di funzioni e così via. Come sempre, come abbiamo già capito anche quando parlavamo di annidamento, delle operazioni, delle espressioni, eccetera, non c'è limite, diciamo così. La regola generale è molto semplice, ovunque ci può stare un numero o una stringa, qualunque valore, ci può stare una chiamata di funzione che eseguirà le istruzioni e restituirà quel valore che viene sostituito in quel punto. Non ci sono, diciamo così, limiti alla complessità. Quindi, vista come scatola nera, la funzione semplicemente è un blocco di cui non mi interessa come è fatta dentro, ma mi interessa solamente quali argomenti vuole, desidera e quale valore restituisce. Fino a qua abbiamo visto solamente la funzione vista da fuori, ok? Come se usassimo nella nostra vita solamente funzioni fatte da altri. Se io voglio usare una funzione fatta da un altro, mi servono solamente queste cose. Come si chiama? Quali argomenti devo passare? Quale valore viene restituito? Con quale regola? Basta. Non ci serve sapere come la funzione sia stata implementata da qualcun altro, se la vediamo come scatola nera. Ovviamente noi vogliamo fare il passo oltre, vogliamo imparare anche noi a costruire le nostre funzioni. Ma tutto questo ragionamento sulla scatola nera, sulle informazioni minime che servono per chiamare una funzione, e servirà anche a noi quando progettiamo una funzione, dobbiamo pensare, costruire una funzione pensando a chi la deve usare. Chi dovrà usare la nostra funzione, la potrà, la dovrà vedere, se l'abbiamo progettata bene, la potrà usare semplicemente avendo quelle informazioni minime che noi avevamo chiamando la funzione round o la funzione print. Quali argomenti ti passo? Come ti chiami? Quali argomenti ti passo e che valore mi restituisci? Basta. Quindi noi dobbiamo fare in modo che quando costruisco una funzione, questa funzione abbia solamente bisogno di sapere queste cose e non debba conoscere nulla del resto del mio programma, nulla del resto della mia applicazione. Abbiamo già visto, vedendole come scatola nera, abbiamo già usato tutta una serie di funzioni. Io qua ho provato a prendere le funzioni di libreria predefinite, quelle di libreria standard, e a evidenziare quelle che abbiamo già usate. Cioè quelle che sono in rosso, secondo me le abbiamo già usate tutte. Quelle che sono in verde, potete dare un'occhiata, magari alcune le abbiamo usate, altre no, ma potete tranquillamente guardare, le possiamo già usare in questo momento. Quelle che sono indicate in giallo sono le funzioni che useremo da adesso in avanti, sono funzioni che non abbiamo ancora avuto modo di vedere, ma le useremo, direi, tutte abbastanza pesantemente. Ma noi sappiamo già che non mi devo necessariamente limitare alle funzioni che ci sono nella libreria standard, perché la libreria standard contiene già una serie di moduli aggiuntivi. Noi abbiamo visto random, ad esempio, abbiamo visto math, che sono i moduli che posso importare, e mi forniscono funzioni in più, costanti in più, variabili in più. Qui ci sono alcuni moduli che abbiamo, che ho provato a evidenziare tra tutti i moduli della libreria standard. Se andate su questo link, moduliindex.html, vedete che ci sono pagine e pagine di moduli, ciascuno con tutte le funzioni che definisce. Ci sono più di 200 moduli nella libreria standard, anche qua. basta semplicemente importare il modulo corrispondente con la sintassi che abbiamo già imparato a conoscere, importa il modulo o importa una funzione all'interno del modulo. Questo sintassi l'abbiamo già vista la terza settimana di corso. E poi abbiamo già anche accennato, anche se non lo useremo particolarmente, diciamo così, nel programma principale del corso, la possibilità di aggiungere dei moduli che non siano già preinstallati nella libreria standard e quindi scaricare da questo PyPy, che è un repository gestito dai vari sviluppatori di Python, che è un catalogo con non 200, ma 200.000 moduli nuovi disponibili, pronti ad essere importati. e quindi basta semplicemente con un comando di installazione oppure direttamente da PyCharm indicare quali sono i moduli che ci servono e vengono scaricati e importati nel nostro programma. Queste sono le videate che vanno sotto il nome di Interprete Python con l'elenco dei moduli aggiuntivi che l'installazione corrente di Python contiene. Se cliccate su questo più potete andare a ricercare nel catalogo di tutti i moduli aggiuntivi quello che vi serve e questo viene aggiunto al vostro progetto. Quindi abbiamo tutto un mondo di funzioni già esistenti partendo da queste, diciamo, le più semplici che non hanno bisogno di nessun import oppure quelle della libreria standard di cui basta importare un modulo che possiamo usare. Qualcuno ha fatto per noi, saranno anche complicate, saranno anche complesse, ma noi semplicemente le usiamo in modo semplice. Nome, argomenti, valore di ritorno. La cosa cambia quando vogliamo noi costruire una funzione e qui diventa la parte interessante. Proviamo a pensare ad un esempio molto molto semplice. Una funzione per calcolare, in questo caso, il valore e il volume di un cubo. Quindi lato alla terza, alla fine, lo sappiamo tutti. Quindi, cosa fa, vista come... Vogliamo realizzarla? Non c'è in libreria. Non c'è in libreria una funzione che calcola il cubo. Allora la inventiamo noi. E ci chiediamo, innanzitutto, questa funzione, vista come scatola nera, cosa dovrà ricevere e cosa dovrà produrre? Cioè, se questa funzione cubo la vediamo come scatola nera, mi chiedo quali e quanti argomenti ha bisogno di ricevere e quale valore di ritorno calcola? Quindi, in questo caso, avrà bisogno di un valore che rappresenta il lato, chiaramente, e restituirà un valore che rappresenta il volume. Quindi, un argomento di tipo float e come unico argomento della funzione. Qui, nella slide, sono scritte, diciamo così, il stesso concetto è scritto con i nomi inglesi, ma perché sono quelli che abbiamo preso, diciamo così, seguendo il libro. Quindi, immaginiamo che la funzione si chiami cube volume. Abbiamo scelto come nome della funzione cube volume e ci serve un argomento. Questa funzione ha bisogno di un argomento solo che in questo caso chiamiamo side length, cioè la lunghezza del lato. Allora, per costruire una nuova funzione usiamo una sintassi molto semplice che fa uso della parola chiave def. Def sta per definisci, definisci una nuova funzione. E la creazione di una funzione si fa usando def, nome della funzione, e poi tra parole di ritonde l'elenco degli argomenti che la funzione può ricevere. L'elenco degli argomenti ci pone un po' di problema perché io quando ho costruito una funzione non so qual è l'argomento che verrà usato per chiamare questa funzione. Cioè, mi chiederai di calcolare il volume di un cubo di lato 1, di lato 7, di lato pi greco mezzi. Quindi, in realtà, gli argomenti non li conosco. Allora, ciò che faccio è indicare il nome di una variabile fittizia che chiamo parametro o variabile parametro o parametro formale a vari nomi questo tipo di variabile che prende il posto indica il posto dove verrà inserito l'argomento. Dove, quando qualcuno chiamerà questa funzione verrà inserito il valore dell'argomento. Quindi questa è una variabile temporanea, una variabile che non esiste se non nel contesto della funzione che nel momento in cui la funzione viene chiamata assume il valore dell'argomento passato. Quindi è un po', io la vedo così, noi abbiamo questa scatola nera, dall'esterno passiamo un argomento che può essere una variabile, che può essere un valore, che ne so, 3.5 e dall'interno della funzione questo argomento si chiama sidelength. TH. Questo è il parametro. Che altro non è che una variabile che esiste solo dentro la funzione e questa variabile viene inizializzata, creata, con il valore dell'argomento. Quindi se io chiamo la funzione qvolume con un argomento 3.5, il codice della funzione che dobbiamo ancora scrivere verrà eseguito con la variabile sidelength inizializzata al valore 3.5. Se poi subito dopo chiamo di nuovo la funzione qvolume con un argomento di 7, allora questa funzione il codice verrà nuovamente eseguito questa volta con una variabile sidelength diversa dalla precedente che viene inizializzata col valore 7, cioè il valore dell'argomento. Quindi noi se siamo fuori dalla scatola ci stiamo chiamando una funzione stiamo passando dei valori che chiamiamo argomenti. Questi valori vengono copiati all'interno di variabili interne nelle funzioni che chiamiamo parametri o variabili parametro. Di questi parametri noi dichiariamo all'inizio quando dichiamo una funzione dichiariamo il nome come sempre in python il nome di una variabile che però verrà inizializzata quando la funzione viene chiamata. È una variabile diversa da quella di partenza. Qui viene semplicemente copiato il valore copia il valore. il fatto che sia una copia in parte comincia a rispondere alla domanda di Michele ma su questa risponderemo più approfonditamente tra un attimo perché è chiaramente un punto chiave. Una volta che ho definito la funzione quindi definito chiamiamo l'interfaccia della funzione cioè come si chiama come si può invocare il nome e i parametri i parametri della funzione sono i posti in cui vanno inseriti gli argomenti quando chiameremo la funzione stessa. Quindi non confondiamoci con questi due termini quando parlo della funzione definizione di funzione questo qua è un parametro e userò il valore del parametro all'interno della funzione. Quando penso di chiamare la funzione di invocarla per farmi calcolare un cubo allora quello è un argomento ossia il valore corrente con cui deve essere chiamata questa funzione il nome corretto sarebbe sempre usare variabile di tipo parametro o qui nelle slide abbiamo abbreviato come variabile parametro e parlando lo abbrevieremo ancora di più dicendo semplicemente i parametri della funzione per ricordarci che però questi parametri non sono una cosa strana ma sono semplicemente delle variabili che vivono dentro la funzione e essendo variabili che vivono dentro la funzione le possibilità su usare quindi qui ad esempio per calcolare questo volume uso la variabile side length che è una variabile che non ho inizializzato io cioè io non ho mai scritto attenzione qualcosa come side length è uguale 7 punto 0 non l'ho scritto dentro la funzione quindi voi vi dite ma sta variabile qua da dove arriva sarà non definita no sì che è stata definita è stata definita come parametro e quindi viene creata nel momento in cui la funzione viene chiamata e assume viene inizializzata automaticamente col valore dell'argomento che il chiamante ha passato alla funzione stessa e quindi dentro la funzione quindi questo non devo farlo assolutamente perché questa variabile è già creata per me non la devo creare io non la devo inizializzare io è stata creata e inizializzata da chi ha chiamato la funzione il parametro è una variabile che viene inizializzato con un valore numerico in questo caso che chiamiamo argomento quindi l'argomento è il valore usato per inizializzare la variabile ok poi dentro la funzione lo posso usare questo parametro come se fosse una normalissima variabile posso fare qualunque cosa potrei fare con una variabile normale vediamo un attimo di usarlo allora invece di guardarlo sulle slide a questo punto proviamo a scriverlo direttamente nel codice facciamo un programmino che si chiami volume cubo in cui definiamo questa funzione abbiamo detto def cube volume che riceve un parametro la definizione è giusta qui siamo nella definizione di funzione quindi parliamo di parametri quindi definisce una variabile di tipo parametro che si chiama side length due punti il due punti ormai lo sappiamo c'è in tutte le sintassi python che richiedono di definire un blocco abbiamo visto il due punti dopo l'if dopo il while anche dopo il def perché questa è la riga di intestazione della funzione e dopo questa riga ci sarà il blocco di istruzioni che deve essere eseguito e in questo caso abbiamo detto volume uguale side length al cubo e poi questa istruzione return è abbastanza intuitiva ma la analizziamo meglio tra un attimo il valore che la funzione restituisce al chiamante la indichiamo con la parola chiave return quindi noi abbiamo per definire funzione abbiamo due parole chiave nuove del linguaggio def che introduce la definizione di funzione e return che specifica qual è il valore che la funzione restituisce al suo chiamante qui abbiamo definito questa funzione possiamo eseguire il programma e il programma non fa niente ovviamente il programma non fa niente perché io ho definito la funzione ma non l'ho mai usata non l'ho mai chiamata definire una funzione è come dire ok c'è una funzione la costruisco la definisco lì e poi qualcuno ne avrà bisogno qualcuno la potrà usare cioè è un po' come abbiamo visto prima la funzione around non è che la funzione around si chiama da sola la funzione around è lì tra le funzioni disponibili quando qualcuno la chiama la lavora altrimenti sta lì e non fa nulla ok quindi dobbiamo in qualche modo usare il valore di questa funzione usarla allora qualcuno può sta suggerendo non so se ho capito bene il suggerimento di dire ma stampiamola anche il volume se non stampa niente se non vedo nulla allora proviamo a eseguirla in questo modo e poi ragioniamo se abbiamo fatto una cosa buona o no se io eseguo il programma il programma non mi ha stampato nulla non mi ha stampato nulla perché ma perché nonostante io abbia scritto un print la funzione non è mai stata chiamata quando voi eseguite il codice python e lui incontra una definizione di funzione l'interprete legge questa funzione e la mette da parte ma le istruzioni della riga 2 3 4 non vengono fatte non vengono fatte in questo momento nel momento in cui la funzione viene letta vengono fatte solamente quando la funzione verrà richiamata allora possiamo chiamarla più sotto definiamo una variabile lato che sia 3.5 diciamo chiediamo qual è il volume solido della funzione chiamandola più volume da parente di lato e poi stampiamo il valore del solido il volume del cubo di lato lato è pari a chiamato qua solido quindi la differenza qual è è che qui sto usando la riga 7 usando una funzione qui non è molto diverso da chiamare la funzione round la funzione int la funzione seno sqr la radice quadrata l'unica differenza è che è una funzione che mi son definito io qua sopra e non ho semplicemente appreso dalla libreria e quindi assegno un valore lo uso prendo il valore di ritorno e stampo il risultato e quindi se io faccio run di questo mi dirà che il volume del cubo di lato 3.5 è pari a 42.875 allora a questo punto vedete che abbiamo stampato anche il 42.875 dentro la funzione qui alla riga 3 perché volevamo riuscire a vedere qualcosa e adesso ci accorgiamo che forse non è stata una buona idea forse non è stata una buona idea perché perché io quando costruisco la funzione non so a che cosa servirà non so che uso ne vorrà fare l'utilizzatore di quella funzione allora se l'utilizzatore della funzione vuole solamente fare questo allora va bene potrei stampare io il volume qua dentro e quindi evito in certo senso a chi chiama la funzione di fare lui la stampa ma se io per assoluto dovessi fare un programma che calcola la somma dei cubi dei numeri da 1 a 100 lo posso fare no? lo posso fare come? beh semplicemente chiamando quella funzione tante volte quindi somma uguale a 0 for lato in range 1 101 quindi per tutti i numeri da 1 a 100 somma uguale somma più cube volume di lato e alla fine farò print la somma dei cubi dei primi 100 numeri è somma quindi io uso la funzione cube volume tante volte dentro un ciclo la chiamo 100 volte ma poi voglio stampare un valore solo alla fine se eseguissi il programma così lui mi stamperebbe tante schifezze che non mi servono tutti i vari cubi dei numeri e poi in realtà l'unico valore che mi serve davvero è questo qua in fondo quindi in questo caso per tornare all'idea di prima quando io costruisco la funzione non so se questo valore ha senso stamparlo subito o no perché non so se chi usa la funzione ha bisogno di stamparlo subito o no nel dubbio io non lo stampo io faccio il mio lavoro ma hai detto di calcolare un cubo calcolo un cubo poi il valore di ritorno fate nello che vuoi vuoi stamparlo subito stampalo subito ti serve per fare altri conti e dovrai stampare solamente il risultato a valle di altri conti e vabbè non c'è problema te lo stamperai tu quindi lo scopo di una funzione deve essere ben definito da questo punto di vista quindi in questo caso se riseguo il programma lui chiamerà la funzione cube volume la prima volta col valore 3.5 e mi stampa il risultato e poi la chiamerà tante altre volte in questo caso 100 volte e ogni volta con un valore diverso del argomento passato proviamo giusto per vederlo ancora una volta a eseguire il programma passo passo quindi io ho lanciato il programma in modalità debugger in esecuzione passo passo quindi ovviamente quando il programma parte il debugger si posiziona sulla prima riga quando vado all'istruzione successiva l'esecuzione come vedete salta direttamente dalla riga 1 alla riga 5 questo perché il corpo della funzione non viene eseguito quando la funzione è definita ma verrà eseguito quando la funzione verrà chiamata ok quindi in questo momento come dicevamo prima immaginatevi proprio che il computatore l'interprete python vede questa def e mette da parte il codice dice beh questo qua definisce una funzione che si chiama cute volume quando mi servirà so dove andare a prenderla ok e quindi posso andare avanti volume del cubo lato vado avanti ecco vedete che qui sono andato avanti dall'istruzione 6 all'istruzione 7 e non è successo nulla nel senso che ho passato il valore 3.5 ho ricevuto il valore 42 perché se io uso questo tastino qua in debug step over il tastino step over non entra dentro le funzioni che vengono chiamate cioè passa all'istruzione successiva dalla riga 6 alla riga 7 e anche se ci sono delle chiamate di funzioni le esegue tranquillamente ma non si ferma non entra dentro le funzioni questo è il comportamento normale che ci interessa quando stiamo chiamando delle funzioni fatte fatte da noi scusate fatte da altri che sono in libreria e quindi viene stampato questo valore se io provo a riprendere da capo sempre passo passo e uso non questo tastino step over ma step into che è quello a fianco si comporta in modo diverso vabbè allora ovviamente la prima la definizione di funzioni viene sempre saltata lato uguale 3.5 viene eseguito adesso siamo in un'istruzione in cui viene richiamata una funzione step over l'abbiamo già visto prima esegue la funzione e va avanti step into mi fa vedere cosa succede entrando dentro la chiamata di funzione quindi se io premo questo tastino step into che sono sulla riga 6 fermo sulla riga 6 con la variabile lato che vale 3.5 il controllo passa alla riga 2 quindi ero sulla riga 6 e a un certo punto sono saltato alla riga 2 perché? perché nella riga 6 ce l'ha chiamata la funzione cube volume e quindi in quel momento il python dovrà eseguire le istruzioni che fanno parte del corpo della funzione stessa guarda cosa succede qua sotto sotto ci sono due righe globals e cube volume prima ce n'era una sola c'era solamente la riga che si chiamava globals che diceva questa diciamo così cosiddetto frame sono i vari ambiti in cui sono definite le variabili dall'ambito globale siamo entrati in un ambito della funzione dentro il quale vediamo le variabili della funzione side length nell'ambito globale vedevamo le variabili lato ad esempio che avevamo definito quindi quando chiamo una funzione si apre una parente si apre un piccolo mondo che è l'ambito nel quale la funzione vive quindi qua vediamo la sequenza di chiamate dall'ambito globale o che è il file python principale ho chiamato questa funzione su questo ci torniamo dentro un attimo come vedete sono arrivato alla prima istruzione la riga 2 della funzione la variabile side length è stata inizializzata col valore 3.5 perché side length vale 3.5 perché nel momento in cui l'ho chiamata la variabile lato valeva 3.5 però la variabile lato della riga 6 e la variabile side length della riga 2 sono due variabili diverse indipendenti semplicemente side length viene inizializzata con il valore corrente di lato nel momento in cui la funzione viene chiamata da quel momento in avanti sono due funzioni sono due variabili scurate indipendenti ok a questo punto questa è una variabile che ha il valore 3.5 faccio il calcolo che devo fare lo segno volume che io faccia step in to step over è assolutamente indifferente perché tanto qua non c'è una chiamata di funzione solamente quando faccio una chiamata di funzione che cambia l'effetto e quindi calcola il volume che è 42.8 o 75 tutti lo sappiamo fare a memoria e poi incontra l'istituzione return così rispondo anche ad Emanuele lo riprendiamo sulle slide ma vediamolo qua che secondo me si capisce meglio l'istituzione return dice qual è il valore finale che questa funzione che questa funzione restituisce quindi questa funzione quando viene chiamata con l'argomento di 3.5 deve restituire il valore di 42.8 perché questo è il valore solido diciamo così che vogliamo segnare al solido al volume del solido quindi l'istituzione return definisce quello che è il valore finale della funzione perché se io facessi se non avessi l'istituzione return semplicemente lui calcola volume e andiamolo a vedere sotto nell'ambito della funzione cube volume adesso ho due variabili che sono definite side length che mi è stata definita in automatico dal parametro variabile e volume che mi sono creato io qua alla riga 2 però non c'è nulla che dice qual è il valore finale che deve restituire questa funzione deve restituire questo deve restituire quell'altro deve restituire la metà di questo sono io a dirlo con l'istituzione return l'istituzione return che cosa fa prende questa espressione che c'è sulla destra volume in questo caso c'è il valore di questa variabile e lo usa al posto di tutta la chiamata di funzione quindi è come a questo punto quando io cliccherò sul debugger per andare ancora avanti di un passo è come se al posto di cube volume di lato tutta la chiamata ci fosse scritto 42,875 e infatti sono uscito dalla chiamata questa funzione cube volume ha restituito un valore che viene assegnato adesso a solido e solido vale 42,8 quindi return sarebbe per restituire un valore e questo valore restituito viene usato nel punto in cui ho chiamato la funzione se notiamo siamo usciti dalla funzione e qua sotto è scomparsa la funzione cube volume non c'è più tutto l'ambito in cui la funzione vive fatto dalla variabile sideline dalla variabile volume esiste solo fin tanto che la funzione è attiva quindi dal momento in cui la chiamo al momento in cui la ritorna quando la funzione è finita io non vedo nulla non vedo più nulla delle sue variabili dei suoi valori perché oramai quella funzione è stata spenta è stata messa via se io andassi avanti nel programma vediamo che qui la funzione range qui abbiamo di nuovo la chiamata di cube volume se entro dentro la funzione quindi faccio uno step into qua lato vale uno verrà di nuovo attivata vediamo sotto l'ambito cube volume della funzione questa volta sideline manco a farlo opposta è stato inizializzato con il valore uno perché il valore corrente del lato della variabile lato in questo punto all'istruzione 12 e ovviamente anche qua posso segnare il volume e così via un'altra cosa che voglio farvi notare finché la funzione attiva quindi prima di ritornare quando la funzione poi scompare che se io guardo l'ambito cube volume vedo solamente queste due variabili sideline e volume se guardo l'ambito globals vedo le variabili lato solido somma ma non vedo le variabili interne alle funzioni ogni ambito ha una sua visibilità ristretta ben definita quindi dalla funzione non posso vedere le variabili che sono nel resto del codice e dal resto del codice non posso vedere le variabili che sono dentro la funzione se no che scatola nera sarebbe se ognuno potesse vedere le variabili dell'altro e viceversa lo stiamo costruendo proprio in questo modo quello che succede dentro la funzione rimane dentro la funzione l'unica cosa che è visibile dall'esterno della funzione è il valore di ritorno ma queste variabili sono variabili diciamo così private in un certo senso della funzione anzi private di questa specifica chiamata della funzione perché questa variabile volume che adesso vale 1 se io vado avanti con l'esecuzione del codice e vedo la seconda chiamata con sideland vale 2 vedete che volume non c'è più qua sotto perché non c'è più ma c'era prima sì ma prima era la chiamata della funzione con l'argomento 1 adesso la funzione la sto chiamando un'altra volta con l'argomento 2 e lei da 0 si ricrea di nuovo delle nuove variabili quindi sono variabili private di ogni singola chiamata della funzione quindi una funzione non può né vedere i valori delle variabili del codice chiamante né vedere i valori della stessa funzione quando è stata chiamata prima quindi ogni chiamata di funzione è veramente scatola nera riceve i valori riceve i valori degli argomenti e deve lavorare solamente con quelli allora questo in parte spero che risponda ad alcune delle domande che avete fatto ad esempio Simone che mi chiede se al posto di lato avessimo messo side length immagino sulla riga 12 o sulla riga 6 ecco sarebbe stato un errore perché quella variabile side length qua non è definita se io avessi facciamo un'altra cosa più semplice stop il programma se avessi chiamato questo lato e quindi anche questo lato ovviamente a parte la confusione secondo voi cosa succede? non succede nulla semplicemente questo lato questa variabile qua definita nella riga 5 e usata nella riga 6 non c'entra niente con la variabile lato definita nella riga 1 e usata nella riga 2 sono due variabili diverse che per nostra sfiga si chiamano lo stesso nome e quindi ci confondiamo noi ma il compiatore non si confonde se io vado passo passo come prima io avrò una variabile lato dell'ambito globale che funziona come prima e poi una variabile lato vedete qui c'è scritto lato 3,5 guardo in globals c'è scritto lato 3,5 ma sono due variabili diverse che casualmente hanno lo stesso nome e non casualmente ma perché l'ho fatto opposta hanno lo stesso valore perché una viene inizializzata dall'altra quindi non ci sono sovrapposizioni se anche chiamate più variabili con lo stesso nome lui si a volte dà un warning che dice attenzione che questo nome va a nascondere l'altro nome hai più variabili con lo stesso nome e quindi rischi di confonderti tu ma il meccanismo di chiamata non dipende dal nome della variabile quindi rimettiamo sulla side length così è più chiaro side length un'altra domanda di Massimiliano mi dice ma le funzioni le posso mettere dopo il codice principale proviamo non c'è nulla di più facile che provare a prendere e spostarle qua sotto ecco vediamo già subito che qualcosa non va perché alla riga 4 python mi dice attenzione che il QVolume è un nome che non conosco stai facendo riferimento al nome di una funzione che io non conosco non ho trovato da nessuna parte quindi la regola è che una funzione va definita prima di essere chiamata prima che arrivare alla chiamata di una funzione l'interprete deve aver visto la definizione di quella funzione se non lui non sa che cos'è quel nome QVolume non sa che cosa farcene quindi le funzioni vanno definite prima e il programma principale diciamo così inizia da qua inizia da qui Alessandra mi chiede se volessimo calcolare due volumi diversi di due di due cubi diversi non c'è problema io qua ho calcolato il volume di uno e subito dopo calcolo che ne so un altro lato uguale 77 e stamperò la stessa cosa quindi faccio un run e mi dice che scusate era altro lato il volume il volume il cubo il lato 3,5 è pari 42 lo sapevamo il volume il cubo il lato 77 è pari a questo numerone 400.000 erotti non so se era questo che intendevi Alessandra come quando dicevi due volumi diversi cioè ogni volta che chiamo la funzione QVolume lei prende l'argomento che gli ho passato e lo usa indipendentemente dal fatto che un attimo prima abbia fatto lo stesso conto con un altro argomento a Samuela Chiara risponde tra un attimo sul discorso di mettere la funzione in un altro file cerchiamo prima di capire il meccanismo poi cerchiamo invece ovviamente cercheremo di separarle per lasciarle più pulite un altro paio di domande che erano rimasti indietro qualcuno mi chiede ma io una funzione può restituire un valore vero o falso sì può restituire un intero sì può restituire una stringa sì può restituire un float sì dipende tutto da che cosa restituisco nell'istituzione return ok se nel return restituisco un flag booleano semplicemente quando uso la funzione al posto del chiamato di funzione sarà restituito il valore true o il valore false se restituisco una stringa sarà restituita una stringa e così via quindi non c'è nessuna limitazione di valore che restituisco l'unico vincolo che lo vedremo meglio tra un attimo nelle slide è che posso restituire un valore solo mentre invece i parametri possono essere gli argomenti no i parametri possono essere più di uno e quindi quando chiamerò una funzione a questa funzione dovrò passare più di un argomento un'altra particolarità allora prima rispondo a Filippo che mi chiede allora Samuel mi dice potremmo anche mettere lato come flood di un input sicuramente c'è questo qui l'ho inserito come costante come variabile assegnata ad una costante questo potrebbe essere benissimo input quindi chiedo all'utente il lato e lui mi stampa il valore Filippo mi chiede si possono fare funzioni all'interno di funzioni sì però la tua domanda può avere due risposte due significati diversi uno è posso chiamare una funzione dall'interno di una funzione che è l'interpretazione più semplice la risposta è ovviamente sì nel senso che se io anziché il cubo del volume dovessi fare la radice quadrata del cubo del volume perché che ne so quale figura geometrica ho potrei usare mat.sqrt al posto di importare mat e quindi dall'interno di una funzione definita chiamo un'altra funzione in questo caso ho chiamato una funzione di libreria ma posso benissimo chiamare una funzione che decido io che mi costruisco io quindi posso avere tante def di funzioni e all'interno di una funzione posso richiamare qualunque altra funzione di libreria oppure definita da me tranquillamente quindi una funzione una chiamata funzione si può inserire ovunque sia dal corpo del programma principale sia dal corpo di una qualunque altra funzione l'altra interpretazione della domanda di Filippo è ma se dentro il corpo di una funzione posso fare def di un'altra funzione la risposta è sì ma è raramente necessario in questo caso creerai una funzione privata di una funzione esistente evitiamo si può fare ma magari evitiamo di complicarci la vita su queste cose voglio fare un altro esperimento con voi cosa succede se io qua scrivessi sidelength uguale 0 allora lo posso fare e che cosa succede? allora lo posso fare sì perché abbiamo appena detto che la variabile parametro è innanzitutto una variabile come tutte le altre ok e quindi questa variabile diventa 0 viene messa a 0 ma allora io mi chiederei dopo quindi sidelength era uguale al lato ho messo sidelength uguale 0 non è che mi mette anche lato a 0 cioè quando io stamperò lato sotto poiché lato quando ho chiamato la funzione è diventato sidelength e sidelength lo metto a 0 anche lato diventerà 0 è la domanda che mi faccio cioè una funzione quando la funzione modifica un proprio parametro va anche a modificare l'argomento corrispondente allora se vi ho convinti prima facendovi vedere che sono variabili diverse la risposta è unanime dovrebbe essere no giustamente quindi una funzione può modificare la sua variabile parametro il suo sidelength può fare ciò che vuole ok ma di sicuro qualunque cosa faccia la funzione sui suoi parametri non può avere effetto sulla variabile che è stata usata come argomento ok quindi anche se volessi non potrei vediamo come funziona e poi capiamo perché mai potrei volerlo fare quindi rifacciamo un debug di questa cosa strana allora lato uguale a 3.5 soldo uguale volume del lato step into volume l'ha calcolato ecco quando io vado avanti faccio questa istruzione vedrò che sidelength è stato effettivamente messo a zero ma ho messo a zero questa variabile che vive nell'ambito della funzione co-volume non ho messo a zero la variabile lato che è una variabile separata che vive nell'ambito del programma principale e quindi non ho effetto non ho nessun effetto sulla variabile principale questa selength uguale a zero vabbè l'ho modificata ma poi quando faccio il ritorno farò sempre il ritorno di volume e basta in questo caso ovviamente non serve a niente se avessi messo allora anche mi dice se avessi messo selength uguale a zero prima di volume e sì sarebbe stato in questo caso sarebbe stato dannoso in questo caso non serve a niente ho modificato il valore di una variabile che poi non uso più se l'avessi messo qua sarebbe stato un errore perché a questo punto avrei preso il valore del parametro 3.5 è stato ricevuto e subito dopo lo cancello lo metto a zero e quindi calcolerò il volume di un cubo di lato zero quindi mi darà sempre zero come risultato quindi in questo caso è sbagliabile è sbagliato perché lo lo vorrei perché sono entrato in questa discussione ma proviamo a fare un altro esempio prendo un altro file per semplicità vogliamo fare una funzione che incrementa un valore passato come parametro quindi io avrei una funzione incrementa che riceve un valore x e semplicemente fa x uguale a x più 1 e quindi visto che sono pigro non voglio scrivere somma uguale a somma più 1 io uguale a più 1 eccetera eccetera più avanti nel mio codice potrò fare nel codice principale a uguale 1 e poi faccio incrementa di a tre volte e quindi potrò stampare alla fine il valore di a questo è quello che potrei pensare di fare purtroppo o per fortuna vedete voi non funziona se io eseguo questo programma mi stampa sempre 1 ok perché l'abbiamo appena visto questo x no uno potrebbe pensare ma se quando io chiamo la funzione inc di x in realtà al posto di x c'è a allora è come se scrivesse a uguale a più 1 no non è così ok quando scrivo inc di a sto prendendo il valore corrente di a lo sto copiando dentro x e poi sto modificando questa x ma la modifica della x che è la variabile locale interna della funzione non ha nessun effetto sulla variabile che è usato per chiamare la funzione quindi la regola generale è che è una funzione non può mai modificare poi la settimana prossima la modifica questa regola qua non sarà più valida diventa un pochi più complicato ma per ora la regola che abbiamo è che la variabile non può mai modificare l'argomento che è stato passato l'argomento è a il parametro è x la variabile ha pieno controllo sul proprio parametro x ha zero controllo e zero visibilità sull'argomento a non può essere modificato voi mi dite ah ma sì ma non funziona perché non hai messo il return ma io posso anche remettere il return se volete non cambia niente lo stesso e vediamo perché continua a stampare 1 perché perché in questo caso questa funzione ritorna il valore x che sarà quanto varrà x secondo voi quando lo ritorna ditemi 2 in questo caso è 2 perché viene sempre chiamato con a che vale 1 questo 2 che viene istituito non è usato in niente non è proprio usato perché questa inc abbiamo detto cosa succede quando chiamo una funzione prende il valore e l'argomento 1 esegue la funzione che fa questo lavoro la funzione ritorna 2 e quindi è come se al posto di questo ci fosse scritto 2 ma quel 2 non viene né salvato in nessuna variabile né stampato da nessuna parte quindi l'unico modo vabbè giustamente Marco mi dice però è barare allora lui dice io faccio a uguale ing di a certo che così funziona ma allora così non serve fare tutto questo basterebbe fare return x più 1 e non il tentativo di modificare la variabile parametro non serve a niente non ci ha portato a nulla perché la a la posso modificare solo nell'ambito in cui la variabile a esiste cioè il programma principale tentativi di modificare una variabile del programma principale dall'interno della funzione non funzionano io posso preparare il valore x più 1 cioè il 2 famoso ma poi la modifica di a davvero la devo fare nello stesso ambito in cui la variabile è definita quindi sono proprio mondi separati non dobbiamo preoccuparci se per caso anche avesse lo stesso nome le variabili non è un problema ok se io qua avessi in quello del mio volume se avessi nel programma principale e qui adesso capiamo perché è importante esattamente che abbiamo fatto se nel programma principale avessi una cosa che si chiama volume alziché somma meno male che sono cose separate che sono mondi separati perché io quando ho scritto il programma principale non ho mai immaginato non ho mai pensato non ho mai avuto bisogno di chiedermi ma com'è che si chiamano le variabili interne alla funzione così eviti di dare lo stesso nome no la variabile si può chiamare la funzione può chiamare le proprie variabili come vuole il programma principale può chiamare le proprie variabili come vuole tanto sono due cose diverse quindi questo volume qui non è la stessa variabile che c'è qui sono due variabili diverse in realtà python mi dà un piccolo warning che dice attenzione che questo nome volume shadows il nome quindi mette in ombra cioè nasconde il nome della variabile del programma principale per dire attenzione che se tu pensavi di usare questa variabile volume per riferirti a questa variabile da sotto non funziona così è una copia nuova che nasconde il nome della variabile precedente quindi questo isolamento delle funzioni è completo non c'è non c'è possibilità di non c'è rischio di conflitto con i nomi delle varie variabili ok adesso rimettiamo a posto il somma perché era poi il primo valore che ci era venuto in mente ok stavo guardando se ci sono altre domande in questo momento allora e qui abbiamo fatto una funzione che riceve un parametro e restituisce un valore possiamo fare anche una funzione che riceva due parametri o più di parametri sì non c'è problema magari chiamiamo la funzione che mi calcola il volume del bo del del cilindro ecco da che cosa dipende il volume del cilindro dipende dal raggio di base e dall'altezza base radius height giusto allora definiamo ovviamente mi serve pi greco quindi importiamo zio mat e quindi il volume del cilindro sarà quindi l'area base è uguale pi greco per il raggio quadrato e quindi il volume sarà uguale all'area base per l'altezza non è cambiato nulla avevo bisogno di due parametri li ho definiti semplicemente uno virgola l'altro ciascuno di questi lavora indipendentemente dall'altro funziona esattamente come il singolo parametro della funzione precedente quindi è possibile definire più parametri ciascuno creerà una variabile parametro locale interna e quindi possiamo fare esempio in cui abbiamo solido uguale cylinder volume possiamo dire lo stesso lato di base e l'altezza è 2.5 ad esempio e quindi scriverò che il volume del cilindro è pari a vediamo cosa viene fuori sempre passo passo ok questa volta la prima istruzione che viene eseguita questo import mat passa alla definizione del volume del cubo però non esegue nulla lo mette da parte il volume del cilindro non esegue nulla lo mette da parte e quindi ho definito le funzioni adesso ci sono le chiamate di funzioni le abbiamo viste prima lo faccio con step into così ci vado dentro calcolo il volume del cubo crea l'ambito cui voglio dove c'è side length calcolo il volume e restituisce il valore e sono tornato qua alla riga 15 e faccio la print quando chiamo la funzione volume cilindro funziona nel stesso modo qui ho due argomenti per il primo argomento ho usato una variabile lato che in questo caso vale 3,5 per il secondo argomento ho usato una costante è uguale tanto quello che importa negli argomenti è il valore che hanno in quel momento il valore corrente che hanno in quel momento ok quindi ci entro entro dentro la funzione e quindi avrò dalla riga 8 le variabili già inizializzate i parametri inizializzati base radius che è una variabile nuova nell'ambito della funzione volume del cilindro quindi la funzione volume del cubo non ce l'ho qua e la base radius è inizializzata sulla base radius l'altezza la variabile rate è inizializzata a 2,5 che era il valore del secondo argomento e poi mi faccio i miei conti mi dà un certo valore volume 96,211 quello che è ritorno e lo stampo e mi stamperà anche questo valore quindi non ci non ci deve preoccupare il fatto di avere più parametri più di un parametro di una funzione di una funzione più di un parametro vediamo anche magari intanto per vedere cosa succede il volume di una figura che sia fatta da un cubo con un cilindro sopra per dire composite volume quindi immaginiamo di avere una figura fatta da un cubo e sopra questo cubo c'è il cilindro ok quindi scriviamolo magari come commento quindi questa qua è una funzione che calcola il volume di un solido che è composto da un cubo di lato side su cui è appoggiato un cilindro di diametro di base side ed altezza ancora side se non sbaglio si chiama cilindro equilatero o qualcosa di questo genere ok che ha la stessa diametro di base uguale all'altezza quindi un cilindro di cui sezioni sono dei quadrati vabbè quella figura ve l'immaginate così allora in questo caso come lo posso calcolare questo beh semplicemente posso calcolarlo come volume 1 è il volume del cubo quindi cube volume di side volume 2 uguale cylinder volume dove il raggio di base è metà della side perché parla di diametro quindi devo dividere per 2 e l'altezza è uguale side e ritorna volume 1 più volume 2 cioè cosa ho fatto ho creato una funzione che a sua volta usa altre funzioni ho creato perché mi interessa vederla in modalità debug per vedere che cosa succede ok immagino che la logica di questa funzione sia abbastanza semplice ha un parametro questo parametro lo usa come argomento di cube volume per calcolare il volume del cubo del lato specificato e poi lo usa per determinare gli argomenti del volume del cilindro il primo argomento è il raggio il secondo argomento è l'altezza in questo caso sappiamo che side è il diametro di base quindi il raggio sarà la metà i due volumi calcolati che ho parcheggiato in due variabili locali private all'interno della funzione li sommo e sono il valore complessivo perché volume 2 l'ho scritto con queste variabili cioè sai mezzi perché cylinder volume richiede un raggio di base e io conosco il diametro di base quindi ho dovuto dimezzarlo se questa è la domanda di Alida allora cosa succede volevo vederlo qua in debugger come vi dicevo quindi andiamo in modalità passo passo andiamo avanti qua questo 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 ormai sappiamo che la definizione di funzioni vengono saltate questa parte l'abbiamo già vista ah no strumpirla perché non ho chiamata questa funzione quindi devo chiamarla quindi solido uguale com'è che si chiamava composite volume dato questo lato e quindi scriviamo che print il volume del solido strano è pari strano è pari a solido ok quindi ci interessa qua magari mettiamo un breakpoint qua cosa arriviamo prima ok ho usato il tasto vai avanti che mi va avanti veloce fino al prossimo breakpoint per non farmi passo passo tutte le cose sono arrivato qua ok lato volume composto che è una funzione e devo calcolare il mio valore del solido entro dentro la funzione e giustamente mi crea un ambito composite volume pari al nome della funzione questo ambito contiene già inizializzata la variabile parametro che si chiama side e però la prima istruzione è una chiamata alla funzione cute volume se io entro dentro anche questa seconda chiamata questo volevo farvi vedere qua sotto si è creato un altro ambito dentro quello precedente dopo quello precedente quindi la cute volume ha un suo side length che è 3,5 e un volume che è 42 questi variabili sono indipendenti da quelle della composite volume che è qua sotto quindi se io clicco qua sopra lui mi fa vedere siamo così in colore leggermente diminuito il fatto che lui è su questa riga ma è fermo su questa riga in attesa che finisca la funzione chiamata quindi qua sotto abbiamo una sorta di pila di funzioni che si chiamano l'un l'altra più in basso alla base della pila c'è sempre il programma principale che ferma la riga 30 in attesa che composite volume restituisca un valore e quindi ho l'ambito della funzione composite volume che è attiva perché l'ho chiamata e non è ancora terminato con le sue variabili a sua volta ha chiamato la funzione cute volume e quindi ha aperto l'ambito anni da all'interno a questa funzione l'ambito successivo che è la funzione cute volume con le sue variabili quindi qua posso andare avanti a piacere una funzione che ne chiamo un'altra che ne chiamo un'altra ogni funzione avrà il suo mondo il suo ambito e qua sotto avrò la mappa di quelle che sono le funzioni in sospeso poi quando vado avanti quando ritorno da questa funzione l'ambito di cute volume finisce ritorno dentro composite volume entro dentro cylinder volume quindi si apre l'ambito di cylinder faccio i miei calcoli e al return questo ambito si chiude e anche al return di composite volume si chiuderà lo guardiamo qua sono sulla return si chiuderà anche l'ambito interno e ritorno al programma principale quindi questo è un meccanismo in cui entro ed esco delle funzioni ogni volta che invoco la funzione si deve essere definita prima nel codice ok quindi io quando scrivo composite volume questa funzione deve essere definita prima in realtà potrei fare ma non lo consiglio una cosa di questo genere queste due funzioni le potrei mettere dopo così vediamo la regola generale che è un pochino più complicata le potrei anche scrivere sotto e quindi ho chiamato la funzione più volume alla riga 8 ma la funzione più volume effettivamente è stata definita alla riga 13 è un problema no non è un problema perché la funzione alla riga 8 non viene chiamata l'importante è che la funzione sia definita quando verrà chiamata e quando verrà chiamata è qui alla 32 che poi chiama la 9 ma la 32 ho già superato la 13 quindi io posso definire le funzioni in qualunque ordine purché quando chiamo la prima di queste funzioni tutte le funzioni che mi servono siano già state definite quindi praticamente la regola pratica è tu all'inizio del programma definisci tutte le funzioni non ti preoccupi più di tanto dell'ordine con cui le definisci e poi però le userai le chiamerai solamente dopo in fondo quindi le funzioni si possono anche dichiarare in un ordine diverso dall'ordine di dipendenza di chiamata essenzialmente semplicemente perché come abbiamo visto prima all'inizio del programma le funzioni non vengono eseguite non entro dentro ma semplicemente vengono messe da parte l'importante è che quando ci sia poi la chiamata io abbia da parte la funzione che mi serve e tutte le funzioni che a lei servono volume 2 Filippo perché voi siete tutti fissati su questo mezzi allora la funzione cylinder volume richiede il raggio della base del cilindro la funzione confusit volume ipotizza un cilindro il cui diametro sia side ok quindi visto che la funzione vuole un raggio e io ho il diametro l'ho di mezzo per avere il raggio ok ok è chiaro che scrivere le funzioni così è pericoloso nel senso che se io non le documento bene poi quando la uso non mi ricordo mai esattamente come si chiamano i vari parametri a cosa servono qual è il loro significato quindi sarebbe buona norma definiti se non so se funziona voglio fare una prova adesso funziona esatto sarebbe buona norma documentare le funzioni questa è una parentesi veloce che vi faccio ma non la voglio approfondire perché chi vuole diciamo può entrare quando noi chiamiamo una funzione di libreria tipo la print vedete che compare la documentazione da dove arriva questa documentazione questa documentazione è la scritta che ha scritto la funzione print come facciamo mentre invece quando chiamo la funzione cube volume non mi scrive niente volume cubo e basta cube volume come faccio se volessi aggiungere la documentazione si fa con una stringa multilinea subito dopo la definizione della funzione quindi se voi aprite una stringa multilinea che si fa con tre apici o tre virgolette qui dentro quello che compare e questo la scrivete dopo la def ma prima della prima istruzione compare un blocco di documentazione e PyCharm in realtà ci mette già dentro delle parole chiave particolari e quindi io qua posso scrivere la documentazione della funzione calcola il cubo il volume di un cubo dato il lato riceve un parametro che si chiama side length che è la lunghezza del lato lato e return restituisce il valore del volume del cubo se io scrivo questa stringa strana tra il def e la prima istruzione della funzione quando chiamerò la funzione vedete che l'IDE PyCharm ha riconosciuto che c'è la documentazione e me lo scrive qua sotto calcola il volume del cubo dato il lato il parametro side length ritorna il volume del cubo adesso poi questa cosa qua perché non c'è una riga vuota scusate devo mettere una riga vuota se non sbaglio eccolo qua c'è la descrizione e c'è la specifica parametro per parametro di che cosa fa la funzione e questo mi aiuterà se facciamo tante funzioni è bene avere una spiegazione o messa in un commento o meglio ancora messa questa si chiama documentation string string di documentazione così è chiaro che cosa stiamo passando nei vari parametri ok è sbagliato Antonio mi dice se le funzioni dichiariamo dopo il main sì è sbagliato nel senso che non vengono riconosciute non c'è un meccanismo di header ma c'è un meccanismo di moduli e lo vediamo dopo per rispondere a Michele poi le altre domande Nicolò mi chiede dove ho preso i valori di side immagino qua il valore di side è il parametro che composite volume riceve composite volume riceve che parametro riceve vado a vedere dove è chiamata composite volume è chiamata qua riceve il valore della variabile lato quindi la variabile lato del programma principale che è stata impostata 3,5 è usato come argomento di composite volume composite volume riceve un parametro side che viene inizializzato con quel valore lì 3,5 per rispondere ad Alida questa stringa la stringa con tre apici è una sintesi che permette in generale in python di creare una stringa che va su più righe quindi se contiene una stringa molto lunga che deve andare a capo anziché scriverla con gli apici normali scrivo con gli apici tripli e quindi all'interno della stringa posso andare a capo e questo è un modo normale io potrei creare normalmente una stringa così se una stringa di questo genere sono messe subito dopo la definizione della funzione vengono interpretate come documentazione della funzione stessa e quindi questa documentazione compare vedete che me la fa vedere l'idee qua sotto compare tutte le volte che nell'idee uso questa è la funzione cube volume uso quella funzione mi fa vedere la documentazione e mi aiuta a chiamare la funzione stessa quindi è un modo che ho io di documentare la funzione direttamente dentro la funzione stessa è una sintasi particolare rimane ancora una domanda in sospeso no in realtà due famiglie di domande in sospeso una domanda in sospeso a cui rispondiamo subito è abbiamo visto funzioni che hanno due argomenti ma non abbiamo visto funzioni che abbiano due valori di ritorno come faccio se dovessi ritornare due valori diversi inziché uno solo e poi c'è la terza domanda come faccio se ho delle variabili opzionali allora questa viene dopo ok vediamo prima i valori di ritorno multipli allora torniamo magari sulle slide che in realtà fanno tutto un lungo discorso che è lo stesso che abbiamo fatto noi direttamente sulla sul passaggio di parametri quindi il fatto che l'argomento viene copiato per inizializzare il parametro e ci sono tutti questi esempi che noi abbiamo già fatto quindi fatemi andare avanti qui ci sono se lo volete su Python Tutor la stessa operazione che abbiamo fatto col debugger cioè per vedere i vari frame quindi l'ambito globale e l'ambito specifico della funzione quindi sulle slide vi ritrovate esattamente il ragionamento che abbiamo fatto prima e su queste slide c'è l'esempio che se io modifico il valore di una parametro della funzione l'argomento corrispondente questa variabile total l'argomento price il nome del parametro ho modificato il parametro ma l'argomento non gliene fa un baffo non viene modificato minimamente quindi sulle slide vi ritrovate con parole diverse con esempi diversi esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto dove è andato a finire due parole su return così arriviamo a dire come si fa a ritornare due valori multipli l'istituzione return semplicemente prende un valore e lo usa come valore restituito alla funzione chiamante restituire più valori tecnicamente non è possibile nel senso che l'istituzione return restituisce un valore solo e basta si può aggirare questa limitazione con un costrutto che credo non abbiamo mai visto se non di sfuggita del linguaggio python che prende il nome di tupla una tupla è un insieme di valori messo insieme tupla è una parola strana però immaginate che sia la generalizzazione di coppia una coppia una tripla una quadrupla una tupla per dire un numero qualunque di elementi quindi è una variabile sola che è fatta di più campi allora se io dovessi restituire due valori ad esempio un valore x e un valore y allora posso restituire non posso fare return x perché se facessi return x y si perde allora potrei ritornare costruire una tupla quindi mettendo tra parentesi con la virgola questa è la sintassi per costruire una tupla costante che è fatta di due campi il primo campo è x e il secondo campo è y e quindi in questo caso riesco inganno la regola tu mi dici non puoi restituire due valori va bene io te ne restituisco un valore solo che però a sua volta è una tupla che è fatta di due pezzi e allora sono riuscito a restituire due numeri anziché uno solo ad esempio aggiungiamo sempre un'altra funzione che che sia che contenga l'area e volume del cubo cube non mi posso scrivere cube side length quindi una funzione unica che calcola l'area e volume è una stupidaggine non la farai mai farei una funzione separata per l'area e una separata per il volume però teniamocela buona ok allora che cosa faccio calcolo l'area che è uguale semplicemente al lato al quadrato non so io side length alla seconda volume che è uguale a cube volume di side length ovviamente c'ho già la funzione che calcolo il volume non devo ricordarmi la formula uso la funzione che ho già e poi posso sostituire la tupla composta dall'area virgola volume quindi se facesse return area restituisce solo l'area return volume restituisce solo il volume return area virgola volume restituisce una coppia di elementi sono due potrebbero anche essere più di due il cui primo elemento è l'area e il secondo è il volume come faccio a chiamare questa funzione la chiamo assegnando il valore di ritorno della funzione a sua volta a una tupla di elementi quindi vediamolo sotto vediamolo magari beh come primo così lo riusciamo a vedere tutto insieme chiamo la funzione area volume cube del lato e il valore di ritorno di questa funzione lo metto in due variabili a virgola v magari area e volume quindi assegno una sintesi un po' strana però a volte fa comodo quindi spendo un attimo di tempo per raccontarvelo quando ritorno un valore ritorno una coppia di valori questo valore quindi che viene restituito da questa funzione viene memorizzato in due variabili a virgola v con questa sintesi quindi creo una dupla di variabili che riceveranno il valore e quindi le variabili saranno a virgola v conterranno rispettivamente l'area e il volume quindi vediamo solo l'esecuzione di questo programma la prima cosa che mi stampa è 12,25 42,875 con lo spazio questa prima istruzione questo primo output è dato da questa print che ha quindi ricevuto il valore di A e il valore di V andando a maestrarre i due valori ritornati dalla funzione quindi si usa raramente questo tipo di sintassi però a volte può far comodo che non so se lavorate con i numeri complessi parte rara e parte immaginaria ve li tenete insieme e quindi potete restituirli in un'unica istruzione ritorno si possono separare i valori di A e V beh ovviamente a questo punto A e V sono due variabili diverse scusate se non ho reso chiaro ma io quando ho fatto questa segnazione ho segnato due variabili separate una si chiama A l'altra si chiama V i due pezzi del valore di ritorno quindi questi due numeri sono due numeri indipendenti l'area e il volume li ho messi insieme solamente per poterli trasportare attraverso la return e subito dopo li ho infilati in due variabili diverse ma Sibiliano mi dice se io invece avessi un'istruzione del tipo x uguale non li chiamo né A né V ma area volume cube di side length cosa succede? succede che x è una variabile di tipo tupla alla fine la tratteremo come se fosse una lista la settimana prossima quindi poi quella variabile conterrà i due valori e poi devo prendere il primo valore con x di 0 il secondo valore con x di 1 così come faccio per i caratteri delle stringhe alla fine una tupla è un po' come fosse una stringa una stringa tanti caratteri messi tutti insieme in un'unica variabile se mi serve posso prenderli singolarmente altrimenti li considero tutti insieme se volessi stampare l'area e il volume non ho problemi scriverò print f l'area vale a ed il volume vale b questi a e v non sono nulla di speciale cioè una volta che ho fatto questo lo posso chiamare a e v x y come volete sono variabili normalissime cioè il discorso della tupla vive solamente proprio solamente nell'istruzione return per il resto sono variabili normali potete fare tutto ciò che volete con le altre variabili come fareste come una qualunque variabile normale ok queste qua sono un pochino le basi poi voi avete domande curiose in più che sugli argomenti opzionali su come mettere un file separato le vediamo ma secondo me è giunta l'ora anche di fare un po' di intervallo che dite quindi direi di farci il solito quarto d'ora di intervallo le curiosità rimanenti magari un esercizietto possiamo farlo nella seconda metà io magari nella seconda metà vorrei anche fare vi propongo già subito un esercizio che possiamo provare a fare come uso pratico delle funzioni poi magari nel frattempo ne penso ne scrivo uno con le stringhe così vediamo funzioni che usano numeri e anche funzioni che usano stringhe ci vediamo tra 15 minuti alle 11.50 grazie a tutti